ciao a tutti amici e amiche di bpm power e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo dell ssd nv me da un tera della western digital blue vediamolo più da vicino che stiate lavorando creando giocando grazie alle alte velocità di questa potente memoria interna potrete fare di più e più rapidamente raggiungendo velocità di lettura sequenziale fino a 2400 megabyte al secondo e di scrittura fino a 1950 megabyte al secondo l'unità ssd è sottilissima e di piccolissime dimensioni infatti misura solamente 80 mm di lunghezza 22 mm di altezza e solo 2,38 mm di profondità il controller e il firmware sono progettati direttamente da western digital e combinati per la più recente tecnologia 3d nand garantendo prestazioni ottimizzate e uniformi il controller si interfaccia con la scheda madre tramite una connessione pc e x4 da segnalare l'assenza di un dissipatore e di una cache drum ma nonostante ciò il disco western digital mantiene ottime performance i componenti sono stampati su di un unico lato che consente di installare western digital blue in qualsiasi configurazione pc rendendolo ideale per chi ha poco spazio a disposizione infine dopo qualche test effettuato con disc bench sul quale arriva a ottenere circa 932 punti possiamo affermare che western digital blue sn 550 è un ssd che offre buone prestazioni ed un prezzo competitivo e quindi rappresenta una soluzione decisamente valida per chi cerca un ssd nvme valido e a basso costo potete trovare questa unità ssd nvme da un tera di western digital blu su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui sotto in basso in descrizione se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi sul nostro canale youtube a mettere un mi piace sulla pagina facebook e a seguirci su instagram ciao e al prossimo video